Grazie a te, Ligoso, per la tua musica. E' arrivata anche fra queste mura e mi ha aiutato per qualche minuto a sentirmi libero. Ho sentito che Zappulla l'ha fatto fuori perché ci provava con sua madre. L'unico testimone è un pentito. E anche lui è qui dentro. Ma chi ci sta facendo questo? Procuratore, lei non è detto... Eh, Carmelo Zappulla ti ho detto, Carmelo Zappulla. E allora? Questo meccanico, questo latino l'opera, ci ha provato con la madre di un cristiano passante. Procuratore, cacciato. Cioè, continuano a spiegarmi. Forse non ti è ancora chiaro, ma la migliore difesa per il tuo cliente è seduta di fronte a me. Bracco, domani sarò l'inferno. Tu devi essere forte. Fuete! Invece la giustizia, il sistema giudiziario con i suoi criteri, è concepita per salvaguardare un mondo dominato dal caos. Una società democratica non può negare la libertà di un cittadino innocente per pentito dire. Ma frate, Carmelo, non si arrenderebbe mai! Mai!